Studio 7 TV e Sport Piccelo Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Basinga da Sheldon perché sei seduto sul mio posto, quindi sono io che dovrei stare lì e non tu Ciao Basinga Tecnica della moltiplicazione del corpo Siamo alla Sun Beach Comics, abbiamo Leonardo Graziano, parliamo del mondo del doppiatore Il doppiatore, specifichiamo perché chi ancora non comprende, che è una specializzazione del mondo attoriale A questo punto la domanda più spontanea viene, se ti dovessi rappresentare con uno dei personaggi che hai fatto O con la miscela di un personaggio che poi genera il tuo Leonardo, come lo rappresenteresti e come lo doppieresti? No, credo che non riuscirei a rappresentare Leonardo con nessun personaggio perché Credo che tutti i personaggi hanno una parte di me e quindi non ne potrei mai scegliere uno per rappresentare me, farei un torto agli altri 100 o 200 che ho avuto la fortuna di doppiare in questi anni Per cui direi tutti, tutti hanno una parte delle mie emozioni, insomma siamo degli attori e ogni volta che devo doppiare un personaggio vado alla ricerca di me stesso della missione giusta per poter dare voce e corpo a quel personaggio che è stato già fatto Come un pirandello dice uno nessuno centomila, il doppiatore in fondo è la mattina un prete, il pomeriggio un sacerò, è difficile a volte raccordare tutti i personaggi Però vivete una vita come in una serie di psichiatra, vivete questo mondo diverso e sempre emozionante Beh, switchiamo da un personaggio ad un altro, noi facciamo turni di doppiaggio che sono turni da tre ore Quindi in un giorno è possibile che se io faccio tre turni di doppiaggio da tre ore nel primo turno posso essere un assassino, nel secondo turno posso essere un simpatico nerd e nel terzo turno posso essere uno scienziato geniale Per cui switchiamo a seconda del personaggio che dobbiamo doppiare cercando in poco tempo di poter dare la giusta emozione per il giusto prodotto Noi ti riconosciamo con Sheldon di Big Bang Theory che poi in realtà è stato dato l'origine, è il famoso la rivincere dei nerds Che è stato un po' la prevista di questo personaggio, ma te l'aspettavi che questa serie durasse tanto ma soprattutto che poi nel tempo ha fatto successo Sì è vero, questa serie ha avuto un successo forse dopo il terzo o quarto anno che la doppiavamo Nel momento in cui è passata in chiaro perché i primi tre o quattro anni credo che sia stata a pagamento su una piattaforma E non mi aspettavo assolutamente un successo del genere, era un prodotto talmente innovativo, talmente diverso Raccontava il mondo nerd che fino a quel momento era ancora un mondo dove magari ci si prendeva anche un po' le distanze Non era un mondo considerato positivo, quando invece insomma adesso, oggi come oggi, i manga sono i supereroi Sono ciò che tengono vivo un po' gli hobby di tanti milioni di giovani Per cui in quel momento preciso non avevamo idea di che prodotto ci stavamo approcciando Poi piano piano, piano piano, grazie anche al web che piano piano prendeva sempre più piede Abbiamo capito che avevamo in mano un prodotto importante che già per carità doppiavamo nel migliore dei modi Ma che poi è esploso in un fenomeno ed è diventato un iconico Ti conosciamo anche come Naruto ma soprattutto mentre stavi presentando, parlando con le persone A un certo punto una persona ha sentito la tua voce e si è emozionata al punto tale che a quel punto che sensazione hai provato Quando hai visto le lacrime di questa persona di gioia e non di tristezza? Vabbè, è sempre un'emozione forte quando qualcuno riconosce il tuo lavoro e si emoziona E ti ringrazia con quelle lacrime perché magari gli hai dato tante emozioni a casa Noi vendiamo divertimento in realtà e facciamo compagnia a tante persone che spesso o non possono uscire Sono impossibilità di uscire oppure si trovano magari in condizioni in cui la televisione è l'unica fonte di compagnia che hanno Per cui essere riconosciuti ed essere ricaricati di questi bei sentimenti per noi è molto importante Le lacrime di quella ragazza sicuramente sono state per me una fonte di gioia Perché significa che a lei abbiamo toccato un po' le corde giuste, le corde del cuore Qualcuno non immagina che comunque vada tu partecipi a altri film come ad esempio abbiamo detto appunto One Piece, One Punch Man e Polar Express Cosa ricordi queste cose? Polar Express fu un film meraviglioso, uno dei primi esperimenti del digitale Un film meraviglioso con Tom Hanks, ecco aver vinto quel provino per me è stato molto importante Poi un film di Natale, ricordo con piacere una lavorazione fatta con Carlo Valli in una armonia di sala E soprattutto mi ha accompagnato facendomi recitare al meglio In One Punch Man mi sono divertito moltissimo con Fabrizio Mazzotta Per quanto riguarda invece, mi hai chiesto Hunter Hunter, no? Ah, One Piece One Piece è stata una bella parentesi della mia carriera Perché ho avuto l'onore di doppiare il giovane Frankie Che ricorda un po' anche il protagonista di One Piece Quasi sembrava all'epoca che ne potesse nascere uno spin-off Ed ero molto emozionato nell'affrontare quel personaggio Perché poi mi raccontavano che era un personaggio molto iconico, molto amato dai fan E devo ringraziare ovviamente Sergio Romano che mi ha dato la possibilità di poterlo doppiare Perché nella mia carriera rimane sempre una sorta di medaglia, insomma, al valore Perché lo ritengo uno dei personaggi più carini che abbia fatto nella mia piccola carriera E un'altra curiosità, la prima volta che sei davanti a un leggio Che ti senti, vedi la luce accesa del partire Qual è stata la prima sensazione? La prima sensazione che hai provato prima di iniziare Poi la sensazione finale che hai avuto Quando hai finito quella sezione hai detto Ho fatto ma poi hai visto le facce delle altre persone Dicendo il risultato finale che cercavi di capire come era andata Parli del provino The Big Bang Theory Io quando ho fatto quel provino Dunque siamo stati chiamati a fare questo provino in 4 o 5 persone E i ragazzi che hanno fatto il provino prima di me Sono stati in sala a 40-50 minuti Hanno fatto un provino lunghissimo, curatissimi dalla direttrice dell'epoca Che aveva in mano questo prodotto Al momento del mio turno io sono entrato E in 5 minuti ho registrato la battuta Ed ero convinto che è uscito da quel provino Di aver perso la serie Perché pensavo, dico guarda Non mi ha tenuto 40-50 minuti Evidentemente sono la persona sbagliata Non sono in grado di poter fare questo personaggio Scoprì dopo, 3-4 settimane dopo Che invece pare che il provino fosse stato Quando fosse stato particolarmente d'effetto Già dalle prime registrazioni E la direttrice si girò E disse no guarda per me è lui Cioè inutile andiamo a fare avanti i provini Secondo me è la persona giusta Poi mi arrivò la comunicazione più avanti Dalla rete televisiva che ho vinto quel provino E per me fu una gioia immensa Lì per lì rimasi un po' così Tentennai perché dico Forse non sono una persona giusta Non mi ha curato Magari pensa che la mia recitazione non è buona E invece non avevo capito Che ero la persona Ero stato scelto già all'epoca Per doppiare questa serie Che poi è diventata iconica E ringrazio ancora oggi Silvia Pepitoni Per questa scelta Un'ultima curiosità E poi ci lasciamo per i saluti Qual è stato il consiglio Che ti è stato dato anche Da un direttore del piaggio Che poi nel tempo Ti ha permesso anzi Di crescere ma non solo migliorare Non solo tecnicamente Ma anche Di aspetto proprio senza reale Nell'espressione del parlato Dunque il consiglio migliore che io ho avuto L'ho avuto da Sonia Scotti Un'altra direttrice che io devo ringraziare molto Insieme a Giorgia Lepore e Roberto Pedicini Che sono stati i miei Maestri scopritori Insomma nel mondo del doppiaggio Devo ringraziare Sonia Scotti Perché il consiglio che mi diede All'epoca dei miei inizi fu Ricorda di Leonardo di seguire sempre gli occhi del personaggio Non lo mollare mai Se tu molli gli occhi Molli il personaggio E molli la sua recitazione Quindi il consiglio che io ho veramente Che tengo in uno scrigno dentro di me È proprio il seguire gli occhi Il seguire il movimento degli occhi Perché dagli occhi del personaggio Si possono ricavare delle emozioni bellissime Non ringrazio mai abbastanza Sonia Scotti Di questo grande consiglio Voce tra l'altro di Wubi Goldberg Di Ursula della Sirenetta Io ricordo che quando feci un provino con lei Questo consiglio fu uno dei Forse dei motivi per cui mi spinse poi Ad andare avanti e a continuare con questo lavoro Un saluto da Leonardo Graziano Ciao Studio 7 TV e Sport e Picciano Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata Basinga da Sheldon Perché sei seduto sul mio posto Quindi sono io che dovrei stare lì e non tu Ciao Basinga Anche tecnica della moltiplicazione del corpo Poi